Ma no, Francesco! Lo senti quando accelerò tutto? Oh, qua, qua devi riprendi, Giuseppe! Ma no, guarda quanta cena è qui! Hai sentito come fa? Beh, ce l'ho fatta, Giuseppe! Ma fa la squadra? No, non dire niente che c'è il video! Ce l'ho fatta digerire! Qua è stata l'acidità! Abbiamo arrivati! Abbiamo arrivati! Pian, piano, piano, piano! Abbiamo arrivato!